E' conto tempo carissimi utenti, la finale tra Salernitana Magna Grecia e la squadra di calcio della Primavera Cavese, Salernitana Magna Grecia 1, Primavera Cavese 0, in azione adesso la squadra della Salernitana Magna Grecia con Disimino, in azione, allora in profondità, Disimino, tutto regolare per l'arbitro, la storia, quindi abbiamo Pisani, di nuovo la storia, attenzione, la storia perde palla, c'è deconcentrazione in questo caso, Si riparte con la squadra della Salernitana Magna Grecia in azione, Grassi, Disimino, Filocaso, Grassi, supera due giocatori, tiro vicino al gol la Salernitana Magna Grecia, Salernitana Magna Grecia vicino al gol, la Primavera Cavese riparte dalle retrovie con la storia, la storia in azione, pallone a Pisabia, a Pisani, Pisabia, ecco Pisabia nelle immagini, Ancora in azione, Pisabia, c'è un tica, sfera che termina alla squadra della Salernitana Magna Grecia in azione in questo momento con Giannacone, Disimino, Filocaso, Grasso, Disimino, Giannacone, palla che termina fuori. Primavera Cavese in azione, Filocaso, si riparte con la Salernitana Magna Grecia in azione, pallone che viene perso, tiro finale, l'esterno destro di Pisabia sfiorato all'incrocio dei pali, si riparte dalle retrovie con la Salernitana Magna Grecia in azione, pallone numero 11, Filocaso, scusate, Disimino, Giannacone, Grassi, pallone per Disimino, la giocata tecnica, Disimino il dribbling, pallone che viene recuperato da Pisabia, veramente, Pisabia, regista dinamica in campo, molto tecnica, la squadra, la calciatrice, eccola nelle immagini della primavera Cavese, dall'altro campo, giustamente abbiamo diversi, diverse calciatrici importanti, tra cui Disimino, Carrabs, Grassi, ecco, Grassi in azione, grande partita la sua, anche quella di Disimino, Filocaso poi, molto tecnico, anche Filocaso, ecco nelle immagini, il tiro di sinistro, ci prova, mira l'incrocio dei pali, vicino al gol, Filocaso, fondo aria, la storia, Pisabia, Pisani, Pisabia, tiro, la bordata, rispondono bene i riflessi del portiere della salita della Magna Grecia, in azione di gioco, ancora, la primavera Cavese, ed ecco, Filocaso, Filocaso, il sinistro, è stato molto bravi, molto bravi, non hanno tirato negli immediati in porta, spiazzando praticamente il portiere, c'è stata una triangolazione, vicino al gol, di nuovo la salita della Magna Grecia, davvero molto bravi, in questo caso, il team di mister Perrottelli, di nuovo Filocaso, lupa palla, ancora, palla fuori, secondo l'arbitro, ferro di Torre del Greco. Abbiamo raggiunto i cinque minuti di gioco, con la salita della Magna Grecia, sempre in vantaggio, però l'arbitro a zero contro la primavera Cavese, una sfera numero 20, perde palla, Pisani, poi deviazione, rimessa laterale, per la salita della Magna Grecia, in azione, con il numero 4, Giannaccone, sfera a Filocaso, l'apertura per Disimino, palla che termina in braccia dei Grimaldi, recupera palla il capitano della salita della Magna Grecia, Disimino, in azione, passaggio arretrato, tiro finale di Filocaso, sfera ribattuta, Disimino. Rimessa laterale, Disimino, Filocaso, Giannaccone, Filocaso, Giannaccone. Deviazione, palla fuori, rimessa laterale, Grassi, tiro, deviazione, ottimo tiro di Disimino, corner. Per la squadra della salita della Magna Grecia, che prova, in realtà, a poter piazzare la palla all'indietro, scambio di palla che però non avviene, finora primavera Cavese in azione, Pisapia, perdono palla e di nominazione, Disimino, Disimino, gioco in orizzontale, Giannaccone, Disimino è il capitano, il destro, ribattuto, fallo, punizione. battuta la punizione, deviazione, tiro di sinistro, Filocaso, padrone alto sulla traversa, si riparte, con Pisani, la storia. tiro di destra, di Mansi, numero 22, pallone a Disimino, Filocaso, Grassi, Filocaso, Giannaccone, fallo, c'è una spinta, punizione. tira, Grassi, Giannaccone, tiro finale, vicino al gol. La squadra della primavera Cavese, che tenda l'assedio in area di rigore, risultato comunque che resta invariato con la salita della Magna Grecia in vantaggio, però una lì da zero, Filocaso, Filocaso in azione. Filocaso, Giannaccone, giocatore, attenzione, c'è stato in realtà un piccolo contrasto, in questo momento Pisapia, si ferma il gioco praticamente, ecco. Giannaccone, Filocaso, deviazione, Filocaso, devia la palla fuori, il numero 20, Rossi, ossia Pisani, si riparte con Filocaso, Grassi, Giannaccone. Ottima giocata di Filocaso, c'è una deviazione, di nuovo Grassi. Partita molto compattuta, comunque molto equilibrata la gara, il risultato è fermo, infatti, sull'1-0, partita molto vivace, dinamica, giocata molto sul tecnicismo, ma soprattutto i stessi calciatori individualmente cercano di utilizzare metodi tattici, in modo tale da poter creare azioni in area di rigore. L'apertura. Apicella. L'arbitro Fischia, l'arbitro Ferro di Torre del Greco, punizione per la Primavera Cavese. 1-0, una finale, ricordiamo, questa è la finale. Abbiamo raggiunto, stiamo raggiungendo i 12 minuti di gioco con la Salernitana Magna-Grecia in vantaggio per una rete a zero. Batte appunto... Pisa via. Si cerca il tiro di destro. Vediamo, si crea una super barriera, una barriera indiana ed ecco il destro, pallone ribattuto da Giannacone. Vicino al gol, Pisani, la Primavera Cavese, va vicino al gol, davvero una bella gara. Si riparte. Tiro finale. Si cerca di trovare... Il lancio termina a lato. La storia. La storia ancora in gioco. L'apertura, la sfera termina fuori. Inissa laterale. Pisapia, padrone per la storia. Palla in orizzontale. Grassi. Rete. 2 a 0. 2 a 0 per la Salernitana Magna-Grecia. Rete di Grassi. Rete di Grassi. 2 a 0. Il risultato. Si riparte da centrocampo. Con la squadra Primavera Cavese in azione. Pallone alla storia. Pallone alla storia. Brava, Filo Caso. In azione di gioco, la Salernitana Magna-Grecia. Ma è la Primavera Cavese a battere la rimessa laterale con la storia. Pallone alla storia. Pallone alla storia. Pallone alla storia. Pallone alla storia. Iannacone. Filo Caso. La triangolazione precisa e perfetta. Grassi. Iannacone. Grassi. Filo Caso. Yannacone deviazione filo caso Yannacone Grassi la triangolazione perfetta e precisa termina fuori time out si riparte con la squadra della Primavera Cavese in azione Yannacone vicino al gol poi Primavera Cavese in azione Yannacone in azione Yannacone filo caso palla fuori deviazione rimessa laterale filo caso Yannacone Yannacone filo caso Yannacone deviazione Salernitana Salernitana Magna Grecia in pallonetto per Carabs Spera che termina fuori in azione di gioco la storia Manzi Pisapia la storia la storia filo caso fallo punizione Bisapia il destro deviazione di Carabs Pisani la triangolazione la triangolazione Carabs passaggio arretrato Salernitana Magna Grecia filo caso pallonetto pallonetto in area di rigore il lancio questa ragà termina fuori Carabs pallone per Pisani Carabs Grassi Carabs si cerca lo spazio orizzontalità del gioco per Yannacone la palla Spera che termina fuori si riparte padone per la storia il capitano avanza della Primavera Cavese in azione Pisapia in gioco Pisapia tiro finale vicino al gol la Primavera Cavese Salernitana Magna Grecia in azione con numero 9 Grassi si apre un ma va con corridoio sarà che termina sul fondo di nuovo la storia deviazione del numero 9 Grassi tiro finale il pallonetto di sinistro di Carabs pallone nelle braccia del numero 1 Rimaldi la Primavera Cavese avanza tenta di poter approfondire il gioco e lo fa in questo caso con Pisani il tiro bloccato dal portiere della Salernitana Magna Grecia il lancio per Carabs l'avanzata tiro finale ribattuto da Grimaldi tiro di Disimino ancora Carabs recupero di Disimino ancora Carabs Disimino Grassi grande giocata applausi del pubblico Grassi pallone deviato rimessa laterale Pisapia tenta un tiro diciamo alla Ronaldo pallone che termina quasi le ricroce dei palli intanto time out si riparte con la Salernitana Magna Grecia in azione Gian Naccona Disimino Grassi il pallonetto pallone bloccato da Grimaldi sfera che viene persa tiro finale di Carabs l'interno destro quasi centrale Primavera Cavese che riparte dalle retrovie con Pisapia padone numero 5 la storia Manzi Pisani rimessa laterale per la Primavera Cavese Pisapia Manzi deviazione di Gian Nacone sfera che termina fuori in lancio bloccato da Grassi Grassi in volata pallone per Carabs tiro di destro ancora Carabs Grassi tiro vicino al gol la salernità Magna Grecia di nuovo vicino al gol la storia di nuovo Pisani Pisani in azione la storia in azione l'apertura termina fuori Carabs Grassi sinistro pallone che termina fuori la storia tiro finale dibattuto ancora la Primavera Cavese che va vicino al gol Grassi in azione Carabs Grassi l'apertura tutta una serie di triangolazioni palo vicino al gol grande azione di gioco della salernità Magna Grecia tutta di prima come avete potuto vedere nelle immagini pallone per Carabs il corner terra fuori dimessa laterale la storia ancora Primavera Cavese in azione deviazione dimessa laterale quadro ci avviamo verso le conclusioni Primavera Cavese in azione tiro di la storia padronalto sulla traversa il lancio termina fuori di nuovo la primavera Cavese in azione tiro rete rete accorcia le distanze si riapre la partita con la rete messa a segno dal numero 20 Pisani quindi Primavera Cavese 1 salernità Magna Grecia 2 salernità Magna Grecia in azione siamo nella parte finale della gara il portiere spazza via un pallone pericoloso nell'area di rigore ancora la primavera Cavese in avanti si cerca il cross tiro di Pisani pallone alto sull'antraverso Giannacone Disimino tiro ottimo l'interno destro di Disimino per l'arbitro e corn deviazione del portiere Disimino Giannacone tiro finale pallone che salvò l'alto sulla traversa ottima l'intenzione di gioco di nuovo la squadra della primavera Cavese in azione pallone per la storia va la numero 22 Manzi la storia in azione e ecco Pisani in azione il lancio la triangolazione per Manzi pallone che praticamente viene fermato intanto rimessa rimessa laterale per la salernità la magna Grecia Giannacone Filo Caso vicino al gol la salernità della magna Grecia fallo punizione ci sono degli arimenti tra Filo Caso e l'arbitro punizione batte Pisapia il destro oppa non ribattuto deviazione Pisapia in lancio pallone per il numero 5 alla storia Manzi l'apertura sera che termina fuori fallo punizione fallo su Grassi vediamo lo sviluppo il tiro di Disimino Grassi pallone in out di nuovo la primavera che avessi in azione Filo Caso pallone in out palla fuori palla fuori tiro Giannacone di nuovo la salernitana Magna Grecia attenzione c'è stato un fallo sul numero 20 Pisani quindi primavera Cavese in avanti la storia la storia il destro la storia pallone fuori pallone fuori ancora la storia primavera Cavese in azione sfera che termina fuori di Simino il cross finisce la partita la salernitana Magna Grecia vince in realtà questo campionato e vince questa finale ed è il campione di Serie C di Serie C